ed eccoci qua con l'after patch della duplicazione alla base operativa è un po' più lunga rispetto a quella che hanno patchato ieri però comunque riuscite a duplicare un veicolo ogni 3-4 minuti è sempre un glitch facile da fare per i passaggi è un po' lunghetto, non è facilissimo da ricordare però al momento è l'unica duplicazione in solo in teoria facile, funzionante e buona da fare vi ricordo che quando verrà patchata lo scriverò nel primo commento quindi nel primo commento quando c'è uno scritto funzionante vuol dire che il glitch funziona e potete farlo mentre quando verrà patchata scriverò patchato con la data e l'ora di quando è stata pubblicata la patch così che saprete che non dovrete fare più il glitch perché appunto è stato patchato vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like a questo video se sarà di vostro gradimento e se volete anche di condividere il video con dei vostri amici per far sapere anche a loro di questo glitch e fargli fare soldi allora iniziamo subito dai requisiti dovrete avere la base operativa e dovrete mettere anche lo spawn alla base operativa e stare in una sessione inviti nella base operativa dovrete avere l'Avenger con l'officina personale mi raccomando mettete la modifica dell'officina nella base operativa mettete la macchina che volete duplicare mi raccomando nella macchina che volete duplicare dovrete avere la targa personalizzata quest'ultima si crea dall'app disponibile su App Store, Google Play, iFruit, ufficiale Rockstar la scaricate, fate l'accesso al vostro account e poi create la vostra targa, la ordinate e la mettete su tutti i veicoli poi dovrete avere una moto nella base operativa una moto qualunque, io ho preso in questo caso un faggio la base operativa deve essere piena di veicoli quindi non devono esserci posti vuoti poi dovrete avere l'ufficio CEO con il garage quindi dovrete avere almeno un livello del garage dell'ufficio CEO all'interno del garage dovrete avere almeno una moto qualunque all'interno del garage dell'ufficio CEO e inoltre il garage deve essere pieno di auto quindi almeno una moto e poi il garage deve avere tutti i posti occupati poi dovrete avere il centro operativo mobile quindi il com con al terzo slot come vedete il deposito veicoli personale quindi centro operativo mobile slot 3 deposito veicoli personale nel deposito veicoli personale dovrete avere l'auto da perdere quindi metteteci una RH8 questi quanti requisiti sono un po' di più dell'altra volta ma ci sta il rientro mi raccomando impostatelo alla base operativa quindi dal menu interazione andate su rientro e mettete base operativa la vostra io ho quella del parco eolico per salvare il rientro in caso l'avete appena messo cambiatevi di abito aspettate il cerchiolino giallo in basso a destra e iniziamo subito con i passaggi prima cosa salite sulla macchina che volete duplicare e premete freccetta sinistra per farla entrare all'interno del vostro Avenger una volta che sarà terminato il caricamento salite all'interno dell'Avenger fate una modifica a caso come ad esempio io ho modificato i freni poi premete cerchio, cerchio e fate la terza opzione cioè esci dall'Avenger mi raccomando la terza opzione non esci dal veicolo come l'altra volta fate esci dall'Avenger vi farà un caricamento abbastanza lungo di circa 20 secondi e una volta che sarà finito il caricamento vi farà uscire dalla vostra macchina voi ci risalite e premete R2 per uscire dalla base operativa poi scendete dal vostro veicolo quindi premete triangolo scendete fatevi presidente Motorcycle Club e mandate il veicolo al deposito una volta fatto ciò chiamate il meccanico e chiamate una moto che avete all'interno del garage dell'ufficio CEO io in questo caso ho chiamato la moto che ho nell'ufficio CEO che vi ricordo che non perderete perderete il veicolo che è all'interno del com infatti ho chiamato la Shotaro che costa circa un milione di dollari perché tanto sapevo che non l'avrei persa una volta che vi sarà arrivata semplicemente la inserite all'interno della base operativa una volta che l'andrete ad inserire ovviamente vi darà il messaggio che la base operativa è piena voi accettate questo messaggio e vi farà entrare una volta che sarete all'interno della base operativa vi chiederà con quale veicolo dovrete sostituirla voi la sostituite con la moto che avete nella base operativa in questo caso lo sostituisco con questo faggio quindi semplicemente premete due volte X una volta aver fatto ciò andate su, tornate sul veicolo che volevate duplicare che vi ricordo di avere la targa personalizzata ci salite all'interno e premete questa volta di nuovo la freccetta sinistra per entrare all'interno dell'Avenger vedrete che dopo il caricamento la macchina scomparirà se la macchina vi scompare ovviamente vuol dire che il glitch sta funzionando correttamente adesso andate avanti verso l'Avenger e andate da questa porta dove ci sarà scritto entra nell'abitacolo cliccate X su entra nell'abitacolo vi farà una schermata nera molto veloce e poi vi ributterà all'interno della stiva dell'Avenger una volta fatto ciò vi caricherà all'interno della base operativa che sarà buggata vedete non c'è nessun veicolo infatti è buggata poi vi farà un altro caricamento nero e vi sponerà in un punto della mappa a caso vuol dire che il glitch sta funzionando poi andate su servizi centro operativo mobile e richiedete il veicolo all'interno del COM che andrete a perdere quindi lo richiedete e una volta che sarà arrivato vi dovrete recare al vostro ufficio CEO mi raccomando per recarvi all'ufficio CEO non dovrete usare un veicolo personale vedete a me è arrivato il veicolo del COM vi chiedete un veicolo CEO per andare appunto all'ufficio CEO non usate veicoli personali o usate un veicolo CEO o usate un veicolo dei civili oppure usate il glitch del teletrasporto se lo sapete fare io in questo caso ho richiesto un buzzard che è il veicolo CEO più veloce e mi sono recato al mio ufficio una volta che sarete davanti al vostro ufficio semplicemente dovete rubare il veicolo di un civile a caso quindi in questo caso io prendo questo qua che mi ha tra l'altro appena investito e prendo il veicolo del civile e poi dovete inserire il veicolo del civile all'interno del livello dove avete i posti pieni in questo caso il mio è il primo livello vi darà il messaggio che il garage è pieno voi lo accettate e vi farà una schermata tutta buggata vedete vi farà adesso il caricamento e poi vi dovrebbe fare una schermata che vedete completamente buggata e ci ributterà nella base operativa una volta che saremo di nuovo nella nostra base operativa dobbiamo andare di nuovo sul veicolo che vogliamo duplicare quindi salite sul veicolo che volete duplicare questa volta però premete freccetta destra così che vi aprirà il menu delle modifiche e fate anche qua una modifica a caso io come al solito modifico i freni poi fate cerchio cerchio e fate esci dal veicolo la duplicazione è ufficialmente finita ed è avvenuta perché se adesso andiamo a provare a comprare una macchina a caso che non acquisteremo ovviamente e la andiamo a sostituire con quella del com vedete che c'è una Issy Future Shock prima c'era una moto che volevo buttare adesso c'è una Issy quindi si è ufficialmente duplicata per ricominciare con il glitch mi raccomando spostate la Issy che c'è all'interno del com con un altro veicolo che volete buttare però attenzione non comprateci qualcosa sopra altrimenti la Issy la perdete quindi ci comprate ci mettete qualcosa che volete buttare ad esempio chiamate il com uscite dalla base operativa chiamate il com e ci mettete una LG e poi ricominciate da capo con tutti i passaggi semplicemente non è difficilissimo io vi ringrazio per la visione spero che il video sia stato di vostro gradimento vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like se così è stato attivate la campanella per restare sempre aggiornati condividete il video con i vostri amici per far sapere anche loro di questo glitch e fargli fare un po' di soldi io vi ringrazio ancora vi auguro una buona giornata ciao a tutti grazie a tutti